Lasciatemi cantare con un cannone in mano Lasciatemi cantare Sono un amiciano Benvenuti a tutti i popoli di Namek Oggi raga nuovo episodio delle fan animation più brutte di Dragon Ball Sarà più in live e come sempre raga le fan animation che andremo a vedere sono si trash L'intento del video non è prendersela con chi le fa ma soltanto farsi due risate e vedere quali mostruosità nasconde internet Per iniziare raga volevo ricordarvi che è iniziato un nuovo torneo negli shorts Stavolta ad affrontarsi randomicamente fra di loro saranno i villain di tutte le serie di Dragon Ball canoniche e non C'è anche un personaggio di Dragon Ball AF I sconti escono qua sul canale nella sezione short di martedì e venerdì alle 2 salvo rari casi E quindi raga mi raccomando recuperatevi lì Oltre a quello raga sul canale Twitch Jackseventin voglio riprendere una serie in cui siete coinvolti anche voi Che si chiama Ditemi la vostra Nella quale si parla di un determinato argomento Perché può essere sia di genere nerd, aneddoti di vita E in live ascolteremo le vostre storie che potete mandarmi sul canale telegram Jackseventin che ho creato a posta Ve lo lascio in descrizione Oppure anche semplicemente scrivere il vostro aneddoto e qua appunto verrà letto in live Quindi se vi va trovate tutti i link di... Ma bando alle ciance raga vi lascio il video Colpa del sole! Un capitolo 5 Dagomore Fan Animation Alve Beh oddio i disegni sono di qualità Soprattutto mi piace l'elfo di Babbo Natale in basso a destra Qua partiamo bene Oddio Rega Ma non ha l'audio? Non ha l'audio giusto? Ok Ah no c'è partito Cioè ogni tanto si è ricordato di mettere dei suoni Questo è Goku Brown Cioè non capisco bene... Ma quest'uomo c'è letteralmente uno che si è messo un asciugamano in testa Mi sembra una sorta di torneo del potere Non capisco bene il contesto No Poraccio Mette lo stesso suono a ripetizione Ma scusate Gli ha tirato tutti quei pugni e l'altro non ha reagito L'ha solo guardate ok Qua sembra che tipo si stia liberando dalle pulci raga C'è tutto che si contorce Gotta go first Beh ma è tipo una sorta di gire Che cazzo Continuare Peccato è finito qua Cioè come il tizio è il re di Spongebob Madonna c'è ragione Il tipo non mi ricordo neanche bene chi fosse Ma è letteralmente lui raga Colpa del sole Già che leggo flipaclip Eccole Questo mi piace Però ha scritto bad art Ha scritto brutto brutto disegno Vabbè a me non lo sa Ma che altro così veloce Ma aspetta cos'era quel frame verde Cosa doveva rappresentare Boom What the fuck Ma che cazzo è Perché c'è Mo Vegeta che smacella Di umano Si è tirato la chetamina Vabbè To be continued Nope Ma io glielo lascerei un commento Beh Complimenti Colpa del sole Goten Super Saiyan Blue Transformation Ok paint power qua Gohan perché Oddio Gohan No Gohan Che cazzo ti ha preso Perché Ma cos'è sto Gohan Con la barbetta Cristo santo Oddio è atroce Sta barbetta Camminare lontano Non sta camminando Sta facendo Sta agitando Anche perché non si è allontano Perché ha ucciso sua madre Non capisco E perché in cazzo Noi si diventa Super Saiyan Blue Non si ottiene così Il Blue Però vabbè Come disegno Ho visto di peggio Però è proprio Trashy il tutto Vabbè Niente Bocciato per Gohan Con la barba Poi è abbastanza una merda In generale Perché fanno tutte No ma che cazzo è Freezer Con la Cioè Con la barba Di nuovo Ma perché hanno tutti La barba Ma che cosa cazzo fai No Dio Cristo Non sei Goku Non c'entri un caso Ma mi ha fatto bene A fare squadre Quella board Cioè A parte il re Kaio che sembra Un dinosaurio blu Ma Questo dovrebbe essere Yanko raga Ma è tardo Ma che cazzo è Voglio vedere se Con il Super Saiyan Si colora anche la barba Visto che ce l'ha No raga Così tutto sporco Veramente Sembra un alcolizzato Incazzato Perché l'hai finito Il davernello Palle No La barba Rimane così Che in realtà Non fa parte del corpo Se l'hai messa finita Nell'obotid Eh guardate Ma che cazzo è Sembra una parrucchia Se la barba Di rimane nero Va vaffanculo C'è Se l'assorbe Kefla Ma perché la gente A questo youtuber Che fa animazione Ha chiesto In commenti Se l'assorbe Kefla Perché Vabbè ma quello Un frame preso Dall'anime Appiccicato Stai un po' Marando Zio Ma no Dai Arrapato Ma è una roba Sessuale Raga Madonna Ria Che Sapete che c'è Gente che veramente Che si eccitava C18 Che viene assorbito Sì ma Bangiaterai Da mezz'ora Che è lì No veramente Stai facendo vedere Il culo Per eccitare Qualche scoppiato Che ti segue Ma no Ma perché Se la sta tipo Scopando Ma che Ma veramente Raga No veramente Cioè ci sarà Che schifo è Raga Una roba Disgustosa Non ne ho mai Abbastanza Di questi tipi Di video Fantastico lavoro Sono felice Che sei tornato Ma scusa C'è davvero Un cane Che ti chiama Sella Sorbe Channel Boh Ma raga Davvero Li piace così tanto La merda Cioè ma è Una specie Di porno Boh Ok Era questa animazione Le manine Di questo freezer Ha le braccia Un po' corte Ragazzi Non T-rex Ciao a tutti Io sono una ragazza Truzza Cosa cazzo è Stata la trasformazione C'è un Super Saiyan Viola Con delle chiazze Di nero Contro Un Super Saiyan Rosso Cioè God Con delle chiazze Bianco Però Come la pimpa Figa Al contrario Dei Wust No raga Non ho parole Basta Raga Dai Alta animazione Su Cell Su nostro Cell Preferita A vostro rischio e pericolo Si vede l'interno Della coda Ma raga Ma cos'è sto fetiche Di Cell Che ha storbe Gente raga C'è la sorbe Califlo Ma è proprio una roba Da malati mentali Ragazzi Gente che si eccita Con sta cosa No Ma facciamo Non meglio Non cazzo tutto sudato Con tutta la panza di fuori Sporca di sugo Che ria segarsi Su sta cosa Tra l'altro è identico Al video di prima Ma no raga Che schifo Sembra una scopata Cioè sembra Oddio mio Tutto così Ma veramente serve Per le seghe Raga Ho accumulato Un disagio esistenziale Devastante Per colpo di sta roba Niente A me finisce Voglio vedere i commenti Molto bene La prossima Voglio che fai Che assorbe Bulma Sai che assorbe Viden Eccitante Olpo del sole No Cos'è Se l'assorbe Ezra No Ma era proprio Una roba Wow Un altro che Non è lo stesso Di prima Se l'assorbe X Ma Cristo santo Ma che malati mentali Porca puttana Dio Ma nascondetevi Raga Fate paura Se l'assorbe Chichi Va Tutto arrapato La fa mezza luna Anche coi piedini Ma dai Coi piedini Cioè pure Feticista No raga No Non va per un cazzo Bene Sono tutto Sconfortato E vabbè Raga Dai Per avermi mandato Ste mostruosità Abbiamo scoperto Che la gente malata E bene si E niente Non fatevi assorbire Da sella Raga Vi prego Madonna di dio Non basterò Questa birra Per dimenticarmi Tutto sto schifo Che ho visto Haa Che voglia Questa Avibilite Questa Questa